Continueremo a cercare tutte le soluzioni possibili per evitare la perdita dei 22 uffici che Poste Italiane vuole chiudere in provincia di Lucca, come un po' in tutta la Toscana. Con queste parole l'assessore Francesco Bambini commenta la risposta negativa del Ministero dello Sviluppo Economico all'interpellanza di alcuni parlamentari che avevano chiesto di ripensare il piano di ristrutturazione e riorganizzazione di Poste Italiane, piano che prevede una diversa distribuzione dei territori affidati ai portalettere, con una conseguente riduzione del numero dei postini, la chiusura di numerosi uffici, ma anche la chiusura di alcuni centri di smistamento. La provincia di Lucca, che da molti mesi sta lavorando per trovare un'alternativa condivisa, però non si arrende e ha già convocato per lunedì 24 un nuovo tavolo di confronto, qui prenderanno parte, ancora una volta, parlamentari e consiglieri regionali della provincia, i rappresentanti dei sindacati di categoria delle poste, i sindacati confederali CGL e Cisle Will, oltre agli amministratori di quei comuni vittime della rischio chiusura uffici postali. L'obiettivo sempre il medesimo, frenare una riorganizzazione, che così, come è stata pensata, colpisce soprattutto gli uffici collocati in montagna e in territori con popolazione anziana, territori poco serviti dal servizio di trasporto pubblico locale e spesso anche non adeguatamente raggiunti dalla banda larga e quindi impossibilitati ad accedere anche ai servizi online.